Sennheiser MK4, questo microfono. Questa è la versione cardioide del microfono, esiste anche in versione con multipattern, quindi molto più simile all'U87AI, ma non è una gara questa, è solamente per ascoltare questo microfono a fianco a uno standard di settore come l'U87AI. Il test prevede la lettura contemporanea del testo e poi l'ascolto della frase in due versioni, prima come l'ha sentita l'U87 e poi come l'ha sentita l'MK4 della Sennheiser. Iniziamo il test. «Gli piace indubbiamente», rispose Lord Henry. «A chi non piacerebbe? È una delle migliori opere dell'arte moderna. Vi offro in cambio tutto quello che vi piace a chiedermi. Desidero possederla». «Gli piace indubbiamente», rispose Lord Henry. «A chi non piacerebbe? È una delle migliori opere dell'arte moderna. Vi offro in cambio tutto quello che vi piace a chiedermi. Desidero possederla». «Non mi appartiene, Henry». «E di chi è?» «Di Dorian, naturalmente», rispose il pittore. «Fortunato mortale!» «Non mi appartiene, Henry». «E di chi è?» «Di Dorian, naturalmente», rispose il pittore. «Fortunato mortale!» «Com'è tragico!» «Mormorò Dorian Gray, gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico! Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante!» «Com'è tragico!» «Mormorò Dorian Gray, gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico! Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante!» «E questa immagine rimarrà sempre giovane». «Giovane quale io sono in questa giornata di giugno!» «Oh, se si potesse realizzare il contrario!» «E questa immagine rimarrà sempre giovane!» «Giovane quale io sono in questa giornata di giugno!» «Oh, se si potesse realizzare il contrario!» «Se io dovessi rimanere sempre giovane, il ritratto diventasse vecchio!» «Se io dovessi rimanere sempre giovane, il ritratto diventasse vecchio!» «Per questo...» «Per questo darei qualunque cosa!» «Darei la cosa più preziosa del mondo!» «Darei anche la mia anima!» «Per questo...» «Per questo darei qualunque cosa!» «Darei la cosa più preziosa del mondo!» «Darei anche la mia anima!» «Per questo...»